Pontedera a Pistoiese, valida per la nona giornata della gironea di Serie C, termina 2-1. Gli arancioni, protagonisti di un buon primo tempo, non hanno retto nel secondo, quando i padroni di casa sono stati bravi a tornare in vantaggio e a difenderlo fino alla fine. La gara al Mannucci inizia su ritmi alti e piacevoli, due squadre che si affrontano a viso aperto, come era prevedibile che fosse. Un primo botta è risposta che però non porta a niente. Da una parte ci prova Semprini, con un niente di fatto, dall'altra Valiani di testa, costringendo Mazzini a parare in due tempi. Al sedicesimo minuto di gioco c'è il vantaggio del Pontedera, cross di Ropolo per Semprini, il cui tiro viene deviato per i Granata da Camilleri, 1-0 per la squadra di Maraia. Tre minuti più tardi, calcio di rigore per gli arancioni, fallo di Ropolo su Gucci, dal dischetto Valiani prende il palo, ma sulla respinta Vitiello è bravo a pareggiare i conti, 1-1. Terminano così i primi 45 minuti. La ripresa vede una pistoiese che fatica molto di più, non riesce a trovare spazi, grazie al gioco del Pontedera, capace di portarsi ancora in avanti al 56esimo. Protagonista uno degli ex di turno, Caio Decenco, che innesca lo scattante Bruzzo, che si presenta davanti a Pisseri, e lo fredda con il suo destro preciso, 2-1 per il Pontedera. Manca la reazione degli ospiti, che faticano ad essere pericolosi, padroni di casa, che giocano spesso sulle ripartenze. All'87esimo Bernardini va vicino al gol, ma Pisseri salva tutto. Più tardi, Cappelluzzo di testa non c'entra lo specchio della porta. Nei cinque minuti di recupero, concessi dalla direttore di gara, c'è spazio anche per l'ultima occasione della Pontedera, sprecata così da Bernardini. Un capo che interrompe la striscia positiva della pistoiese, che si ferma a 10 punti in classifica. Pontedera invece che continua il suo magico momento, con questi tre punti raggiunge l'Alessandria, quota 18 in terza posizione, meno 2 da Renate secondo e meno 6 dal Monza capolista.